pronto shalom shalom sono di nuovo con voi veramente ho piacere di studiare con voi vi voglio bene avete una energia di asce ma siccome asce vi da importanza vi da la vita allora anche io ho questo piacere di poter essere e studiare insieme siamo perché a voi continuiamo i nostri studi sul massimo dei padri siamo secondo capitolo e mishnah yud dalet il quattordicesimo mishnah in questi siti in pagina 216 stiamo parlando dei allievi di rabbi yohanan ben zakai che fra i suoi migliaia migliaia di allievi aveva cinque che erano proprio favolosi uniti con lui e lui ha dato un lode per ognuno per dare a noi un'idea della loro caratteristica e oggi parliamo del quinto allievo che rabbi yohanan ben zakai il maestro ha detto che lui è una fonte senza limite lui è il massimo dell'intelligenza anche gli altri avevano altri pregi ma lui è il massimo 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 e abbiamo parlato e abbiamo riportato ognuno di questi cinque allievi hanno lasciato per noi tre insegnamenti cioè loro hanno lasciato migliaia di insegnamenti però tre insegnamenti erano abituali di dire e come mai proprio tre perché abbiamo spiegato che ci sono tre basi su cui diciamo il mondo esiste uno con lo studio della Torah vuol dire con l'energia che ci viene da alto perché la Torah è la parola di Dio questo è una base noi dobbiamo sapere che viviamo dal diretto interesse dal diretto vita che Hashem ci dà e il secondo è il corbanot il di avvicinamento vuol dire sacrificio è una parola sbagliata o tradurre corbanot come sacrificio ma avvicinamento vuol dire una persona che prende da Hashem che riceve lui deve sapere anche di dare i corbanot erano proprio per avvicinare la persona all'esistenza al sentimento di Hashem la loro propria origine di vita ma non basta ricevere e dare di te stesso devi anche pensare al prossimo ecco perciò questi sono i tre basi e anche Rabbi El Hazar che lui era come una fonte che si rafforza sempre lui ha lasciato tre insegnamenti basati su questi tre basi Rabbi El Hazar dice deve essere molto diligente nel modo Torah per studiare la Torah la Torah non è un passatempo la Torah deve essere studiata di continuo interessante noi sappiamo ricordare è la parola zikor ricordi ha il valore numerico siccome non ci sono numeri in ebraico ma le lettere stesse funzionano anche come valore numerico allora la parola zikor ricorda al valore numerico di duecento venti sette zain sette chav venti e reis duecento venti sette la parola la parola shikach shokheach dimenticare ha il valore numerico di trecento ventotto sin sono trecento chav venti e chet otto cioè la differenza La differenza fra ricordare e dimenticare ci sono 101. Ma che cosa è questo 101? Qui vediamo ulteriormente perché abbiamo già avuto tantissime dimostrazioni. Torà è perfetto, Torà è divina. Non è per niente che ci sono 101 numeri differenti fra ricordare e dimenticare. Ma che cosa è questo 101? Allora guardiamo il Talmud. Il Talmud babilonese, pagina 9 del secondo parte, porta un detto di una persona che il padre era un convertito. Così racconta la Ghimara. A Marley Bar Hei Hei. Ha detto il figlio di Hei Hei. Ma che strano nome. Era chiamare una persona, figlio di Hei Hei. Perché volevano i rabbini far ricordare alla gente che una persona convertita può arrivare ai massimi dei livelli. Noi sappiamo che Avraham Avvino è nato come Avram. Lui è stato, diciamo, chiamato dal suo papà, mamma, eccetera, Avram. Poi quando aveva 99 anni e lui è entrato con un patto con Hashem facendo la circoncisione, allora Hashem dice non sarai più chiamato Avram, ma sarai chiamato Avraham. Avraham ha aggiunto un Hei al suo nome. La sua moglie che è nata come Sarai, con un giù dalla fine. Allora, in quella giornata quando è stato cambiato il nome di Avraham, è stato cambiato anche il nome di Sarai. Non chiamare la tua moglie Sarai, ma il suo nome Sarà, Sarà, con un Hei alla fine. E i primi convertiti all'ebreismo, perché Avraham è nato dal suo padre Terra che aveva una fabbrica di idoli. E la mamma, diciamo, anche lei faceva parte di quella famiglia. E Avraham è diventato il primo patriarco. Lui è diventato un convertito all'ebreismo. Ecco, perciò, per sottolineare che un maestro aveva un padre che era un convertito ed è arrivato ai maestri che portano in suo nome tantissime leggi importanti, allora è stato chiamato figlio di Hei Hei, Avraham e Sarai. E così, diciamo, veniva proprio sottolineato che, diciamo, se uno diventa ebreo può diventare altissimo. No, non potrà diventare un Kohen. Sì, un Kohen no, vabbè, però, neanche un re. Però, diciamo, ci sono tanti lavori oltre ad essere Kohen e un re. Allora, racconta la Gemara in Chagiga. Amarlo Bar Hei Hei, ha detto questo figlio di Hei Hei, a Hillel, che Hillel è il Presidente. Non ho mai capito quello che c'è scritto nell'ultimo profeta Malachi, che in italiano viene chiamato Malachies. Malachies, penso, diciamo, in latino viene chiamato Malachies. Era l'ultimo dei profeti che ha vissuto nel tempo del secondo santuario. Allora, questo Malachi, in capitolo 3, brano 18, dice una cosa interessante. E questo non ha capito Ben-Hei Hei Hei, c'è scritto, qui si parla ai tempi subito, primo di Mosheya. Vissavtem, state tranquilli, vuol dire meditate, urritem e vedrete con i vostri occhi Ben-Saddik, la Rasha, fra il comportamento, quello che succederà ad un giusto, la Rasha a un malvagio. Adesso nel tempo del Galut prima di Mosheya, allora ci sono tanti di quei malvagi che vivono con macchine lussuose, eccetera, eccetera, eccetera. Però nel tempo subito prima di Mosheya, state tranquilli, meditate e vedrete la differenza come vivranno i giusti e i malvagi. Uno, e poi, guardate la differenza, Ben-Ovedelokim, fra uno che è un servitore di Hashem, che segue le leggi di Hashem, lascerà la persona e lo avvodo, che non serve Hashem. E allora Ben-Ovedelokim, ha chiesto il Leo, scusi. Haynu Tzadik è la stessa cosa. Tzadik, Haynu Ovedelokim, un giusto è uno che serve Hashem. Allora, come mai Malachi dice due cose. State a guardare la differenza tra i giusti e i malvagi, e il servitore di Hashem e i non servitori. Allora, se è giusti, se non, il servitore di Hashem. Allora, perché lui fa questi due aggettivi? Tzadik è anche un servitore di Hashem. E poi, Haynu Rasha, un malvagio, Haynu, è la stessa cosa che lo avvodo. è uno che non serve Hashem. Che cosa è il malvagio? Il malvagio è uno che non serve le leggi della Torah. E allora, perché Malachi, il profeta che ha recitato le parole di Hashem, parla di due cose diverse? Allora, risponde il presidente Hillel. Avvado, ve lo avvado, quando si parla di uno servitore di Hashem, è uno che non è un servitore, non si parla di uno che non è un servitore, che è un malvagio. No, 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 no. Questo abbiamo parlato all'inizio. Tzadik e Rasha. Questi taravagli, questi ovedelokim, servitore di Hashem, e che non serve Hashem, taravagli tutti e due servitori e non servitori, si parla di Tzadik, che morono in propria persona, perfetti! Fanno tutto il loro dovere verso Hashem. Però come mai? Dice uno è un servitore di Hashem, e l'altro non è un servitore di Hashem. spiega a Hillel, viene da me, non è uguale, sono per cui uno che studia la sua lezione, meia piamim cento volte, le sono per cui uno che studia il suo studio, meia piamim cento volte, siccome l'abitudine in quei tempi, che non era scritto, non era stampato, si doveva studiare tutto a memoria, ecco perciò viene chiamato Torah Shebbi Alpeo, Torah orale, allora loro, ogni legge, era l'abitudine di studiare cento volte. oggigiorno uno studia, uno, due, tre volte, stufato, è certo che si dimentica quale che si studia, due, tre volte, cinque, dieci volte si dimentica, cento volte è la normalità per ricordare, cento volte, minimo. allora dice Hillel, cento volte, siccome questa è la normalità, è una persona che non serve specialmente a Shebbi, fa il suo dovere, è l'abitudine di studiare cento volte ogni lezione, io faccio il mio dovere, però non fai un lavoro di più. invece, ovedelo Kim, uno che è un servitore che fa una fatica è uno che studia cent'una volte. Vuol dire, siccome l'abitudine era soltanto cento e lui vuole avere ancora una sicurezza di più che non dimenticherà, studierò ancora un'altra volta e contro la natura è considerato un servitore di Shebbi. Perché se tu fai il tuo dovere, ormai sei abituato, non sei un servitore, è la tua norma di vita. E allora, però, aggiungendo una volta di più da quello che è normale, sei già considerato un servitore di Shebbi. allora, e questo Bebarheye allora ha chiesto, allora, scusi, rabbino Hillel, un Mishum Khad Zimna soltanto che ha studiato una singola volta di più dalla normalità, cari lei, Mishum Khad Zimna, cari lei, lo ha avuto, lui ha studiato cento volte, lui non è un servitore di Shebbi, e quello di cento un volte, no, ma, per una volta c'è la differenza tra un servitore e un non servitore, non ho capito, rabbino Hillel, sono stupido, non lo so, non lo capite, mi spieghi meglio. Allora, Omar lei ha detto Hillel Abbarheye, e sì, una volta può fare la differenza. E ti do un esempio. Noi abbiamo tante dite di traslochi. Se il MAD esce fuori dalla Gemara, esce fuori dalla vita di Torah, il MAD è impari Mishuk dal mercato dei trasportatori con gli asinelli. Allora, a Saraparsi, vai alla dita di trasporto, ho bisogno di portare due pacchi ed è 10 km. Allora, prezzo, 10 km, Bezusa e un euro, così i prezzi non erano inflazione una volta, allora per 10 km basta pagare un euro. scusi, ho un altro pacco, però è un pochino più lontano, sono cada Saraparsi, 11 km. Allora, risponde il, diciamo, l'ha detto agli consegni dei pacchi, B3 è così, due euro, scusi, 10 euro e un euro, 11 euro e due euro, doveva essere uno 10, un euro 10, un euro 20, ok, però, due euro è il doppio. Allora, spiega, l'ha detto al trasporto, siccome i nostri asinelli sono abituati a fare viaggi di 10 km perché si vede che c'era un altro villaggio, un'altra città di 10 km fra questa città e l'altra, erano abituati a fare questi, diciamo, viaggi di 10 km. Sono abituati e allora non fa un effetto su di loro. Però andare 11 km e già fuori della loro abitudine questo un km vi fa una fatica incredibile. Paghi di più perché dopo avrò, diciamo, dei problemi, avrà male qui, avrà male lì, dovrò portare al veterinario. La stessa cosa è vero quando si parla dello studio. siccome era l'abitudine di ripassare ogni legge cento volte, allora questo ormai è la tua abitudine. Fare una volta di più dovevi fare una guerra con il tuo iesserara, il tuo iesserara inclinazione e diciamo del piacere del vagabondismo. Oh, e già tutti fanno cento volte così tu vai a fare centuno. tutti in punti, hai fatto la guerra e hai vinto contro il tuo inclinazione verso diciamo il vagabondismo, tu sei un ovedolo, un servitore di Asha. Allora, che cosa vuol dire la differenza fra ricordare è dimenticare centuno. Quando uno studia in una maniera che serve, Asha vuol dire non soltanto che fa la sua abitudine, ma proprio vive in questo e questo dimostra il centunesimo volte allora ti ricordo non mi ricordo una lezione, due, tre lezioni fa abbiamo parlato che quando Rabbi Yohanan ben Zakai lui è mancato allora i suoi allievi si sono traslocati in altre parti allora la moglie di Rabeliese ben Arach lei era una donna che gli piaceva diciamo vivere in un paese dove c'è tanto verde vicino al mare vicino al fiume diciamo gli piaceva allora chi comanda in casa è sempre la moglie e allora ok moglie potrò studiare e anche lì diciamo attorare dappertutto pian piano la moglie è andata a fare un bel passeggiata nel foresto a buon aria eccetera allora vieni Elieze con me staremo insieme studiamo piano 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 aveva sempre meno tempo di studiare e dopo tanti anni che lui è stato lì ho guardato l'agmara dice nel nome della città era Dumast Dumast allora che era un paese diciamo un villaggio che c'era tanto verde era proprio pulito l'aria e lui ha cominciato a studiare di meno finché che proprio ha dimenticato tutto quello che lui ha studiato e si è reso conto che lui sta diventato arrugginito allora ha detto alla moglie voglio tornare alla città dove ci sono tanti maestri eccetera allora l'hanno dato cavolo è tornato qui da di noi allora l'hanno dato una chiamata a sefetorah e era parciat bo che c'è scritto lei questo mese il primo mese sarà per voi rosh chodashim era primo di diciamo in passato si parla del mese primo di pesach lui siccome era diversi anni che non ha studiato lui ha letto anzi che di ha chodash haze lachem ha letto hacheres hayal libam il loro cuore è diventato sordo muto questo gigante il miglior allievo di rabbi non sa neanche leggere l'ibraico e lui ha letto l'altro hacheres hayal libam il loro cuore è diventato sordo muto allora i suoi amici che si ricordavano allora si sono riuniti e hanno deciso mettiamoci tutti insieme e chiediamo a Hashem di avere pietà per Rebbe Eliezer Rebbe Eliezer ben Arach e che lui riprenderà la sua conoscenza allora quando si uniscono maestri tanti maestri insieme chiedono Hashem non può diciamo lasciare il loro desiderio di non essere diciamo accettato Hashem ha mandato Eliezer così scritto proprio se volete guardare nell'agmara Shabbat di Talmud Babilonesa pagina 147 seconda parte 147 Hashem ha mandato Eliyahu a Navi era cominciato a studiare con Rebbe Eliezer ben Arach e siccome è un bravo maestro e allora in poco tempo ha ripreso tutto 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 quello che ha dimenticato e allora perciò è giusto che Rebbe Eliezer ben Arach dice deve essere diligente a studiare Torah vuol dire proprio studiare tanto come è successo da me ho dimenticato tutta la Torah perché non ho studiato completamente ok questo il primo suo insegnamento corrisponde alla base di Torah tu vuoi avere lo studio della Torah che rimarrà da te che sarà fresco devi di continuo studiare la Torah senza fine perché se no dimentichi come è successo da me ok questa è la parte di Torah la seconda base è proprio pensare del tuo amico dice Rebiliese Benarach quando tu studierai e veramente sarai così connesso con la Torah che non dimenticherai niente vedà saprai mashe tashif quello che deve rispondere l'apicores ad un apicores a una persona che non sa che cosa è il valore della Torah sull'apicores ci sono diverse spiegazioni la spiegazione generale dei commentari è apicores viene dalla parola half care uno che abbandona siccome lui non ha nessun interesse dello studio della Torah è ignorante e allora per me Torah non ha nessuna importanza abbandona non li tiene per niente importante allora una persona chi vuole soltanto mangiare bere andare discoteca andare diciamo eh e allora tu parlare con lui dell'importanza di Torah a lui non manca allora è come diciamo parlare al muro perciò dice mashe tashif quello che tu devi rispondere di andare a parlare con una persona che non ha nessuno interessa non interessa allora vai a vendere ai eschimesi diciamo dei costume da bagno e nessuno ti compra perché non hanno bisogno di costume di bagno la stessa la stessa cosa tu vai in Florida dove c'è diciamo 90 40 di gradi eccetera vendere il bisogno non hanno bisogno la stessa cosa tu parli a una persona che per lui la Torah è una cosa che non ha valore non ha nessun 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 importanza non ascolterà però quando c'è una persona che fa la vita come oggi diciamo la gente ha abitudine di fare tutto quale che vogliono però lui viene a chiedere a te ma che mi spieghi che cosa vuol dire la Torah eccetera allora se tu studia come si deve e la Torah diventa veramente molto parte della tua vita allora potrai spiegare alla persona disinteressata perché ignorante potrai spiegarlo nel modo giusto e avvicinare questa persona che lui comincia a vivere secondo le regole e secondo la giustizia e diciamo avrà una vita meravigliosa questa è la spiegazione generale che danno i commentari però c'è un commentare che dice che nel 371 prima dell'era volgare che c'era un filosofo greco che si chiamava apicoros lui aveva una filosofia che la persona deve avere piacere della vita non esiste Dio non esiste niente esiste il mio piacere questo è 371 anni prima dell'era volgare che è nato e poi Roma e specialmente i riconi di Roma hanno accettato e hanno e sono diventati diciamo discepoli della sua filosofia e in Roma loro facevano dei parties in più i grandi riconi da tre persone a nove persone facevano che si mangiava wow wow e poi c'erano persone di musica c'erano persone che dovevano fare tutti i tipi di acrobazia dicendo roba incredibile perché se da a me piacere questa è la cosa più importante allora come oggi la gente oggi vogliono avere piacere non vogliono avere a che fare con la religione che da a loro dei dettati dovete fare è giusto di fare io faccio quello che per me è piacevole e allora questa era la seconda base che Rabbi Eliezer Benarach ha detto quando tu studia come si deve oltre che tu sei uno studioso e hai la base della Torah avrai anche la base di aiutare il prossimo spiegare a persone che loro hanno interesse di sapere che cosa vuol dire vivere allora aiuterai anche questa gente poi la terza cosa che era diciamo il corbanot vuol dire di inalzarsi te stesso e avvicinarsi ad Hashem lui ha detto davanti a chi tu stai faticandosi tu cento una volta studiare ogni cosa è una fatica non è facile una fatica incredibile però devi meditare che tu stai studiando davanti ad Hashem una persona lavora in fabbrica e allora ci sono tanti lavoratori c'è la famiglia eccetera quel che è e il padrone lui è nel suo ufficio allora si lavora si più o meno diciamo però tranquillo quando però il padrone arriva nella stanza dove tu lavori e allora proprio non perdi neanche un attimo perché c'è il padrone lì e se lui vede che io sto pensando di qualche altra cosa non si può e allora dice Rabbi Elieze benarach sappi davanti a chi stai studiando tu stai studiando la Torah di Hashem e lui è qui 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 cosa vuol dire che Hashem è qui 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 allora c'è l'agmara in Berahot che dice questo Amar Rabbi Chia Barami ha detto questo rabbino Rabbi Chia in nome di Ula miyom dal giorno questo è Berahot Talmud Babli pagina 8 prima parte miyom dal giorno che ch'era Bait Amigdash che è stato distrutto il santuario abbiamo spiegato come mai il santuario viene chiamato Bait Amigdash la Casa Santa abbiamo spiegato anche Buckingham Palace dovrebbe essere una Casa Santa la parola Santa vuol dire diversa io ho in casa mia 13 camera da letto faccio finta no allora io ho 13 camera da letto vabbè un po' lardo però succede ci sono tanti casi che però Buckingham Palace ha 702 camera da letto allora è una casa diversa santo vuol dire diverso come abbiamo un posto dove si mette il Sefer Torah viene chiamato Aron HaKodesh l'armadio santo l'armadio diverso mentre in un armadio normale si mette scarpe camicie eccetera però in questo armadio si mette soltanto il Sefer Torah allora è un armadio diverso la stessa cosa chiamando Buckingham Palace è una Beta Midash è una casa diverso mai sentito che uno ha dato un aggettivo al Buckingham Palace che ha 702 camera da letto una casa diciamo santa casa santa perché che cosa vuol dire buy it buy it vuol dire casa perché viene scelto in ebraico la parola buy it perché buy it vuol dire dentro noi parlando dell'arca di Noè Hashem dice a Noè siccome l'acqua sarà turbolente sarà abbastanza agitata l'acqua allora prendi pece e spalmare mi buy it o mi bahut da dentro e da fuori con questo pece allora buy it vuol dire dentro e questo significa una casa di darti un dentro una persona che vive fuori non ha un senso di sicurezza invece quando sei in casa tua hai un senso di sicurezza allora anche la regina Elisabetta anche lei ha bisogno di avere una casa per la sua sicurezza perché c'era ho letto diversi anni fa che c'era uno che si è entrato nel palazzo reale e ha cominciato a giranzolarli finché che è stato fermato anche la regina Elisabetta ha bisogno di avere una casa di avere un punto che ci sente dentro che ci sente sicuro invece l'unica casa che l'inquilino non ha bisogno di avere casa sua per protezione è il santuario Hashem non ha paura di nessuno come mai c'era la casa di Hashem per la gente che avranno un punto di riferimento di venire a trovarlo allora è la casa però non per l'inquilino ma per la gente che vengono a visitarlo allora nel Beit HaMikdash chi era inquilino nel Beit HaMikdash nel santuario era Hashem allora quando c'era il santuario c'era la presenza di Hashem però dice Ulla dal giorno in cui è stato distrutto il santuario è l'akkuddosh borghu biolamo Hashem non ha in questo mondo è l'arba amore che l'alaka non vada soltanto due metri quadrati intorno alla persona che studia la Torah studiando la Torah per la volontà di Hashem allora Hashem viene e sta con la persona che studia la Torah ecco quello che dice Rebbe Liezer Benarach quando una persona studia la Torah deve pensare io dovrò pensare comportarmi come una persona del centro perché io sono davanti ad Hashem io sono qui davanti ad Hashem non posso perdere un momento non posso pensare di niente altro e dice io mi devo faticare perché si parla di studiare in una maniera proprio faticosa che è l'unico modo come riesci a ritenere diciamo questa saggezza della Torah e poi non basta di pensare che tu sei proprio osservando la volontà di Hashem che ti dà l'intelligenza di poter capire quello che stai studiando e anche questo devi pensare e chi è devi pensare chi è il padrone del tuo lavoro tu stai lavorando studiando la Torah con le tue intelligenze adesso devi pensare non pensare io sto diventando un grande maestro un grande saggio wow 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 tutti mi daranno scavone no devi sapere io sono davanti a Hashem che lui mi dà l'intelligenza non è niente mio è tutto suo e poi devi pensare un'altra cosa che studiando la Torah stai dando ad Hashem un grande piacere se Ishalim ti pagherà schar una ricompensa più per la tua opera io do uno stipendio al mio lavoratore quando il lavoratore fa un piacere a me siccome lui fa quello che voglio io lo do ricompensa e la stessa cosa è che una persona deve pensare siccome Hashem mi darà la ricompensa vuol dire che io sto dando a lui piacere ecco perciò questa è la terza base della Torah innalzare te stesso studiare la Torah non per pensare diventare un gran saggio che tutti parleranno di lui sul telefono su televisione su whatsapp eccetera eccetera ehi devi sapere che tu dai piacere ad Hashem ecco perciò lui ti dà la ricompensa e poi dice che Hashem ti dà ricompensa per la terra per la tua opera non dice che Hashem ti darà ricompensa per la tua conoscenza perché ci sono delle persone che studiano 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 poi dimenticano non hanno una memoria però hanno studiato dice Rabbi Eliezer benarach Hashem dà ricompensa al PU la terra per la tua opera non mi interessa se tu diventi rabbino capo o meno importante che tu studi che tu hai interesse di conoscere l'intelligenza la conoscenza di Hashem questo è l'insegnamento che Rabbi Eliezer benarach lasciato per tutta l'eternità a tutta la gente che hanno voglia di sapere come comportarsi nella vita anche a Milano anche 2020 in tutto il mondo ok allora Mitz Hashem prossimo lunedì ci incontriamo di nuovo e siccome c'è un allievo uno anche se ho dato anche settimana scorsa lunedì ho dato il mio numero di telefono non ho ricevuto neanche una telefonata però spiegherò lunedì un super scandalo che proprio uno che legge superficialmente la Bibbia diciamo c'è proprio una roba scandalosissima e parliamo come è possibile un grande rabbino un patriarco migliore dei nostri patriarchi va a rubare del padre cieco su uno diciamo ha bisogno di soldi allora prende la sua mitra in banca però se c'è uno fuori diciamo del negozio c'è un diciamo un cieco che lui raccoglie qualche diciamo monete allora arriva qualcuno senti ti posso cambiare diciamo ti do 10 euro e ti dai quelle diciamo quelle monete un cieco 10 euro wow certo però questo non era un 10 euro erano soldi di monopoli allora questo è proprio da mettere al muro tu vai a rubare qualche centesimo diciamo di un di un cieco tu tu sei un vero un vero mascazzone un malvagio ok però questo c'è scritto nella Torah che Jacopo ha rubato dobbiamo spiegare che cosa è successo se vi interessa diciamo i scandali ok shalom shabbat shalom era il piacere studiare con voi vi voglio tanto bene spero che anche volete bene anche a me ok ogni bene shabbat shalom 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 shalom